Musica Ben ritrovati ai telespettatori di Infostudio, ancora buone feste. Apriamo questa edizione con la cronaca, con la tragedia familiare accaduta a Rossano dove Giuseppe Vitale, conosciuto come Tonino, è stato ucciso con due colpi di fucile dal figlio Cesare. L'omicidio sarebbe arrivato al culmine di una lite nata da motivi che sono tuttora in corso di accertamento. Quel che si sa è che il 36enne nel primo pomeriggio del giorno di Natale ha preso il fucile da caccia, legalmente detenuto, ha esploso due colpi all'indirizzo del padre 64enne nella loro casa nel centro storico di Rossano. Cesare Vitale è stato sottoposto a fermo, sull'episodio stanno indagando carabinieri e polizia per cercare di ricostruire la dinamica esatta e anche il movente dell'omicidio. Giuseppe Vitale era cancelliere presso il tribunale di Castrovillari. Suo figlio, fa sapere l'avvocato Francesco Nicoletti, si è determinato a non rispondere alle domande del pubblico ministero in sede di interrogatorio. Fino a tardanotte il PM ha ascoltato familiari e alcuni vicini di casa per ricostruire la tragedia. Ha anche disposto il sequestro delle abitazioni della vittima e dell'indagato che si trovano all'interno dello stesso stabile. Ci sono sei persone indagate dalla direzione distrittuale antimafia di Catanzaro per l'agguato avvenuto lo scorso 29 luglio nel centro storico di Sorianello. Bersaglio dei killer era Alex Nesci, 27enne, che in quel momento però si trovava assieme al suo fratellino 13enne affetto da sindrome di Down. Entrambi rimasero feriti dalle indagini svolte dalla squadra mobile. Il fatto potrebbe inquadrarsi in una guerra d'indrangheta tra il clan degli Emanuele e quello dei Loielo, che nel corso degli ultimi anni ha portato a diversi episodi di sangue. Ai sei indagati vengono contestati i reati di tentato omicidio e di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. Ci sono stati altri sequestri in questi giorni di botti di capodanno. In particolare due quintali sono stati sequestrati dai carabinieri in provincia di Vibo Valencia, tra Serra San Bruno e Soriano Calabro, dove i militari hanno scoperto anche una fabbrica abusiva di giochi pirotecnici illegali. Nel laboratorio sono stati ritrovati circa 60 kg di materiale esplodente non catalogato e privo di autorizzazione alla vendita. Il proprietario, un uomo di 35 anni con precedenti di polizia, dovrà pagare sanzioni amministrative per 6.500 euro. La merce illegale che è stata posta sotto sequestro avrebbe fruttato sul mercato più di 10.000 euro. Altri 140 kg di prodotti pirotecnici sono stati sequestrati anche a Crotone, trovati in casa di una donna di 50 anni che è stata denunciata per commercio abusivo di materiale pirotecnico. La vendita dei prodotti trovati in casa sua infatti è vietata. Vediamo invece nel prossimo servizio il neonato geoportale di Cosenza. Un'idea, un'iniziativa che serve per rendere più smart la città, ma soprattutto per offrire un servizio concreto a cittadini e a professionisti. Uno strumento di accesso diretto alle principali informazioni che riguardano il territorio. Dalle attività di programmazione e governo della città alle banche dati geografiche. Il neonato geoportale di Cosenza è stato concepito per mettere a disposizione dei cittadini e dei professionisti una grande quantità di informazioni, prima reperibili solo su fonti diverse e spesso poco accessibili. Riuscire ad accedervi implicava lunghi e tortuosi giri per uffici alla ricerca di documenti o informazioni sparpagliate. Un tour che il geoportale vuol provare a ridurre al minimo, compiendo un ulteriore passo in avanti verso una città più dinamica e a misura di cittadino. La comodità è che direttamente da casa, sia il tecnico sia il privato cittadino, può avere informazioni che sono utili sia per eventuali progetti, interventi sul territorio, perché si può accedere direttamente al catastro, agli strumenti di pianificazione del comune, regionali anche, carte e ingendi e tutta una serie di altre informazioni, ma anche al privato che per esempio vuole sapere la destinazione urbanistica di un suo terreno oppure addirittura vuole sapere i contributi da pagare al comune su una singola particella, basta andare a accedere al sito e posizionarsi sulla singola particella, cliccare sopra e vengono fuori tutta una serie di informazioni utilissime che altrimenti andrebbero reperite nei vari uffici. Adesso digitando Geoportale Cosenzo ovviamente avranno a disposizione tutti questi dati che sono dati di natura urbanistica, c'è tutta la disciplina che riguarda il regime vincolistico, quindi il piano di assetto idrogeologico, i rischi anche di tipo diverso che ci sono sul territorio, i vincoli paesaggistici, i vincoli monumentali, i vincoli archeologici, quindi potrà essere rilevato tutto molto facilmente e poi ovviamente anche la sezione che riguarda i tributi, oltre a quella che riguarda l'urbanistica, e in questo modo anche Cosenza avrà finalmente uno strumento che dà più accessibilità ai cittadini e ai professionisti, quindi diventa anche più trasparente la macchina comunale e tutti i dati, tutti i contenuti che sono a nostra disposizione vengono in questo modo immediatamente a conoscenza di tutti. Torniamo ad occuparci del Festival d'autunno perché c'è stato un nuovo incontro, una nuova conferenza stampa che è servita sicuramente per fare il punto su come è andata e su quello che sarà il futuro, ma anche per chiedere, e la richiesta è arrivata dal direttore artistico Antonietta Santacroce, qualche certezza in più per l'anno prossimo perché non si verifichino alcune disfunzioni che l'anno scorso hanno messo un po' in difficoltà gli organizzatori, sebbene l'iniziativa sia andata più che bene. Ho capito come cambia il vento, Non si è limitata a ripercorrere i momenti salienti del Festival d'autunno Antonietta Santacroce. Nella conferenza stampa di fine evento il direttore artistico della manifestazione ha voluto anche sottolineare con forza i problemi burocratici che hanno rischiato di compromettere il buon esito della rassegna, chiedendo alle istituzioni garanzie concrete per il prossimo anno. A partire dalla casa che si era scelta per il Festival, la suggestiva terrazza del San Giovanni, che improvvisamente e senza preavviso è venuta a mancare per il parere negativo della commissione pubblici spettacoli. E siccome uno degli obiettivi del Festival è proprio la valorizzazione dei luoghi storici di Catanzaro, allora è ovvio che per la prossima edizione si chiedano certezze che non costringano a fare i salti mortali da un giorno all'altro. Un'edizione sicuramente straordinaria per l'elevato livello del cartellone proposto. È stata un'edizione anche sofferta però per il forzato cambio di location dalla terrazza del San Giovanni al Politeama in piena estate. E ora che concludiamo questa quindicesima edizione ci apprestiamo a avvarare la sedicesima che già da marzo sarà presentata nelle più importanti fiere internazionali del settore. sorge il problema di dove si terranno gli spettacoli estivi di Festival d'autunno. E stiamo valutando appunto le soluzioni migliori che consentano la valorizzazione dei nostri eventi estivi e non la penalizzazione come purtroppo è avvenuto quest'estate. A lavoro dunque già per la prossima edizione del Festival che ancora una volta non sarà soltanto musica ma anche grandi eventi culturali di promozione del territorio. Il Festival d'autunno è innanzitutto un grande progetto culturale che mira da un lato a valorizzare le location storiche della città di Catanzaro dall'altro a valorizzare i talenti calabresi e questa penso dalle produzioni originali con i nostri artisti sia una mission importantissima che portiamo avanti già di diversi anni e poi appunto la sezione culturale che quest'anno era denominata la Calabria del Centro che è un'altra mission importantissima che è proprio quella di far riscoprire e di divulgare la nostra storia che purtroppo è una storia poco conosciuta e che quest'anno abbiamo portato avanti utilizzando svariati strumenti e anche coinvolgendo appunto storici, archeologi utilizzando anche il documentario che abbiamo realizzato sulla Calabria bizantina che abbiamo presentato anche a Londra nel mese di giugno riscuotendo grandissimo successo non solo culturale quanto anche turistico sulla Calabria perché tutti i soci dell'Accademia Italiana di Cultura a Londra sono poi venuti in Calabria per visitare i luoghi che avevamo raccontato Torniamo invece a Crotone per occuparci ancora una volta di calcio e solidarietà perché il Crotone Calcio è stato in visita ma poi ha contribuito anche in maniera sostanziale come vedrete nel servizio al emporio solidale I Cinque Pani che è una realtà quasi unica nel suo genere che si occupa a Crotone di aiutare numerosissime famiglie in difficoltà economiche Assiste ogni mese oltre 150 famiglie indigenti grazie ad un protocollo d'intesa siglato in prefettura tra enti, privati e rappresentanze del terzo settore L'emporio solidale I Cinque Pani di Crotone è un luogo in cui le famiglie in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente con il contributo determinante anche di chi non ha sottoscritto il protocollo ma una mano la vuole dare comunque Tra questi c'è anche il Crotone Calcio che non solo a ridosso del Natale ha donato moltissimi beni di prima necessità all'emporio ma ha anche portato il suo mister Walter Zenga e alcuni calciatori a conoscere da vicino questa bella realtà Sì, è stata una donazione facilissima perché comunque fare queste operazioni di bene è sempre la cosa più piacevole al mondo poi anche aiutare dei nostri concittadini abbiamo invitato anche parecchi dei ragazzi qui presenti oggi alla prossima partita con il Napoli siamo felici di questa giornata abbiamo imparato tante cose anche i giocatori sono rimasti, anche il Miss sono rimasti stupefatti da quello che fa questa gente Penso che sia il modo più profondo per conoscere le realtà di una città ed è chiaro che quando vieni in questi posti a visitare questa gente che fa delle cose straordinarie per la gente povera ti vengono mille pensieri diversi e cominci a pensare a un qualcosa a cui non avevi mai rivolto il tuo pensiero e il tuo modo di pensare un giovane esemplare di Capodoglio della lunghezza di 6,5 metri è stato ritrovato morto nel pomeriggio del giorno di Natale lungo una spiaggia di Parghelia nel Vibonese sulla carcassa del cetaceo che si stima avesse circa due anni ci sono ancora corde e reti da pesca che ne hanno quasi reciso la coda e che potrebbero essere la causa della morte che secondo gli esperti sarebbe venuta in mare aperto il corpo sarebbe stato successivamente trasportato a riva dalle correnti tra i primi ad arrivare sul posto il responsabile del WWF Young della Calabria Domenico Aiello che ha provveduto ad allertare la capitaneria di Porto di Vibomarina chiudiamo come di consueto con Io scelgo Calabria che stavolta scende in campo per il Made in Calabria però per quello vero in quest'ottica va anche la richiesta di trasparenza riguardo tutti i prodotti in generale perché il consumatore possa scegliere consapevolmente cosa comprare e a quali prodotti affidarsi un appello lanciato anche dall'imprenditore che abbiamo sentito a Melicucco e che si occupa di peperoncino Massimo Tiganisava Uno dei leitmotiv di questa azione di comunicazione integrata molto forte Io scelgo Calabria e questo è il motto che riassume tutta la nostra attività stia oggi nel suggerire il consumo calabrese nel privilegiarlo in ogni occasione possibile Dobbiamo però ricordare che il consumatore deve scegliere Calabria deve scegliere il prodotto calabrese deve scegliere il lavoro calabrese però anche con un certo senso di responsabilità cioè cercando di privilegiare quei momenti produttivi che si occupano di un vero Made in Calabria perché purtroppo nel tema più vasto del falso Made in Italy c'è anche uno spazio occupato dal falso Made in Calabria una vera e propria speculazione sul nome Calabria quando dietro però non c'è una vera produzione calabrese A Melicucco abbiamo incontrato un produttore di peperoncino Giuseppe Lombardo che ha scommesso sulla filiera corta del peperoncino calabrese Si parla tanto di peperoncino calabrese Ahimè, come grossa disappunto il peperoncino consumato in Calabria è pochissimo quello che lo serve in Calabria anche perché non c'è la cultura della coltivazione del peperoncino in modo intensivo è sempre coltivato per uso familiare e quindi chi ne fa un uso importante di peperoncino è stato ahimè nel tempo costretto a rivolgere al mercato estero però oggi c'è questa nuova tendenza a ritornare così alla terra c'è volontà di produrre qualcosa del proprio territorio che abbia anche un'identità del territorio lo stesso la difficoltà che troviamo oggi è dover combattere con il falso made in Calabria e allora quando si parla di prodotti che apparentemente sono uguali però hanno un'origine diversissima ma non solo torniamo per sfasare un luogo comune che la manodopera che incide non è assolutamente questo qua sono proprio le tecniche di contribuzione di produzione del prodotto che portano poi un prodotto che ha delle qualità diverse quindi questa è la cosa importante Il vostro obiettivo vi augurate insomma di riuscire a portare questo discorso della filiera a livello regionale? E riuscire a sensibilizzare il consumatore quando chiede un prodotto sapere cos'è che sta comprando poi ognuno è decidere non è che obbligatoriamente deve andare a comprare il prodotto Calabrese non siamo aperti a tutti i mercati però è giusto che chi va a comprare un prodotto che abbia l'identità del prodotto quindi voglio comprare un formaggio pecorino al peperoncino e voglio sapere se quel latte è della Calabria se quel peperoncino è della Calabria e poi decido se lo comprare o dalla Calabria oppure dall'India e dalla Cina Libertà insomma di scelta consapevole per noi era l'ultima notizia grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti